Ciao a tutti, buona vista, il vostro Hector Elio della Pegna Falbuena e Spindosa de Santiago de Compostela in spagnolo Ehi a tutti ragazzi, allegria! Ora basta, sono arrabbiatissimo! Eccomi qua, perché ho perso la schedina a causa di questo pareggio senza reti tra se solo tutinese molto equilibrato, tiri da entrambe le parti, quindi nessuno meritava di perdere probabilmente ma almeno una delle due poteva vincere, no? Io ho giocato uno fisso, cioè guardate, guardate che roba, cioè guardate Ho perso la schedina, ho perso, e non è uno X, questo è X nel senso sbagliato, ho perso invece faccio così quando è giusta, faccio così quando è giusta, il Tic, il Tic, come si chiama? E quindi ora basta, prenderò il mio cuscino a pugni, ecco guardate, questo mi sembra Antonio di Natale lo chiamerò De Pollo, prendi questo De Pollo, ecco, guardate Mannaggia miseria, mannaggia De Pollo, prendi questo, mannaggia di Don Natale, di Natale e De Pasqua, mannaggia, ecco, prendi questo Vabbè ragazzi siamo arrabbiati abbastanza, anche se abbiamo perso la schedina siamo comunque persone felici e domani almeno due video ci saranno, uno delle probabili informazioni, pronostici già ormai le abbiamo fatti quindi non c'è più niente da dire e altri per vedere, perché ne sono convinto secondo me le partite domani le indovino tutte e quindi ce l'abbiamo ancora di più saremo contenti se le abbiamo indovinate, vabbè quindi buonanotte da Manuel Lazzari vuoi andare a dormire che hai, ora ti hai letto buonanotte da Patrick e da Nato io sono molto contento per questa performance del Lazio team speriamo di vincere le prossime partite la Murciana da Lazio per il 9 gennaio per aver compiuto gli anni e speriamo di vincere contro la Juventus ti farò per voi dalla panchina vabbè d'accordo e dal vostro Hector Elio della Pegna Valbuena e Spindosa de Santiago de Compostela il Spagnolo a tutti ragazzi allegria a tutti e buona la prima 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 prima